E' la logica conseguenza di chi non accetta un ricatto e resta a casa senza lavoro. Sono le parole di Enzo Palladino, 52 anni, infermiere del reparto di endoscopia digestiva all'ospedale di Torrette di Ancona, ufficialmente sospeso dal servizio per aver detto no al vaccino anti-covid. Una battaglia che Enzo porta avanti ormai da mesi e che lo vede in prima linea contro l'obbligo imposto dal governo anche attraverso l'AISA, il sindacato dei lavoratori indipendenti della salute di cui è presidente. Il popolo italiano è diviso a metà, ma soprattutto è diviso a metà in base a una certa mancanza di cultura o ignoranza. Vale a dire c'è il pensiero, la possibilità di pensare che un sanitario vaccinato sia di assicurezza per il contagio e un sanitario non vaccinato sia un vero e proprio pericolo per i pazienti. Questo non è vero, gli studi lo stanno confermando e la parte logica della norma praticamente non ha più senso. Oggi Enzo non percepisce più lo stipendio, ma ciò non lo spaventa e se servirà sarà pronto a rimboccarsi le maniche. A ottobre consumerò lo stipendio di settembre, a dicembre ci sarà una quota della tredicesima, ci sarà un vuoto a novembre ma si sopravvive. Il lavoro che farò io spero di continuare a fare l'infermiere, poi ci sono tante altre possibilità, tante altre cose. Io ho un diploma pure da ragioniere, perito commerciale programmatore, ho avuto un escursus anche da barman. Poi credo che non trova lavoro chi non vuole lavorare. Poi abbiamo sempre il reddito di cittadinanza, quindi se resterò senza lavoro prenderò circa i quattro decimi dello stipendio che prendevo prima senza lavorare. Intanto Enzo prosegue l'attività all'interno del sindacato che ha intrapreso due ricorsi, sia di fronte al Tardelle Marche che al giudice del lavoro. Il primo contro l'Azur e il secondo nei confronti dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro. Ecco, e dal 15 di ottobre poi che cosa succederà? Il 15 ottobre è una data molto curiosa perché i lavoratori hanno a disposizione un'arma importante, vale a dire che previa comunicazione possono non presentarsi sul posto di lavoro, certo perdono la retribuzione per i giorni in cui non si vogliono presentare, ma al tempo stesso non perdono il posto di lavoro e non sono assoggettati a sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari si possono verificare quando il lavoratore vanno da 600 euro a 1.500 euro, quando si presenta sul posto di lavoro, anzi la normativa il 127 parla di luogo di lavoro, e non è in possesso del Green Pass oppure non lo esibisce. È un'opportunità di vendetta, se così vogliamo, anche per quelli che sono stati costretti al vaccino, quindi lo sciopero diventa un'arma molto secondaria perché mira a contemperare i diritti della salute con quello dello sciopero. In questo caso l'astenzione dal lavoro, prevista tra l'altro per norma, quindi lo Stato credo che se abbia riletto quello che ha firmato, prenderà provvedimenti nei prossimi 3-4 giorni. Grazie a tutti.